pediatria assistenza in sala parto quindi questa sempre una parte di neonatologia innanzitutto neonato alla nascita deve essere sottoposto a delle procedure assistenziali che sono la legatura del funicolo il posizionamento il riscaldamento la gestione delle vie respiratorie la stimolazione indice di apgar l'ispezione della placenta del cordone e e poi va per trasferimento al nido allora innanzitutto per quanto riguarda la legatura del funicolo cosa si fa si lega al funicolo si fa resegare il cordone in modo da far perdere al neonato la dipendenza anatomica dalla madre il posizionamento anche importante perché il neonato va messo con la testa inclinata verso il basso per evitare l'accumulo di secrezioni di sangue di liquido omniotico e inoltre ci vuole riscaldamento perché ovviamente dobbiamo evitare l'ipotermia come si fa riscaldamento si va a mantenere innanzitutto una temperatura corporea tra 36 e 37 gradi questo in modo che i processi metabolici no che si vanno ad attuare vanno ad essere salvaguardati e quindi ci sarà un minore dispendio di energia ricordiamo che poi neonati non hanno un sistema di termoregolazione completamente attivo quindi vanno riscaldati proprio come dicevo prima per evitare l'ipotermia quindi il neonato deve essere vicino ad una fonte di calore ed è asciugato con panni asciutti e caldi per aggiungere appunto una stabilità termica poi vanno gestite le vie respiratorie quindi si fa un'aspirazione per liberare il naso delle secrezioni la stimolazione per esempio tramite uno stimolo sulla pianta del piede oppure la oppure sul dorso del piede oppure l'aspirazione delle guane sono sufficienti l'indice di apgar che vedremo a breve l'ispezione della precente del cordone anche molto importante e poi soprattutto una volta fatte tutte queste diciamo procedure poi ci sarà il rooming in del neonato nella stanza della madre no quindi che una pratica che si fa anche attualmente allora parliamo del punteggio di apgar perché questo ovviamente è molto importante che cos'è il punteggio di apgar ben anzitutto è stato appunto ideato da virginia apgar nel 58 ed è un parametro possiamo dire valido in tutto il mondo di vitalità dove si vanno ad analizzare sostanzialmente determinate parametri al primo minuto dalla nascita e al quinto minuto perché si chiama apgar ovviamente prende il nome però con queste anche nome possiamo associare una lettera ovviamente in inglese vabbè quello che è una scala di valutazione come vedete abbiamo innanzitutto cinque cinque parametri e dei punteggi diciamo già che quello di punteggio pari a zero è il punteggio peggiore quello pari a uno intermedio quello due migliore quindi a sta per appearance quindi dobbiamo vedere il colorito 0 se cianotico pallido 1 tronco roseo o estremità cianotiche 2 roseo da notare che in realtà comunque neonati spesso hanno un colorito un po cianotico anche fisiologicamente quindi raggiungere un colore roseo completo diciamo è difficile però comunque ci sono ovviamente condizioni assolutamente normali condizioni invece patologiche poi piva sta per pulse quindi la frequenza cardiaca quindi può essere nel punteggio zero assente invece di uno sotto 100 bpm 2 sopra 100 bpm g sta per grimmace cioè la risposta agli stimoli quindi tramite no anche un sondino vado a vedere se c'è una risposta per esempio si può fare col sondino è uno dei tanti metodi usati comunque il punteggio zero nessuna disposta agli stimoli 1 è una smorfia 2 è starnuto e tosse poi a sta per activity quindi il tono muscolare valutiamo col punteggio zero l'ipotonia col punteggio 1 qualche flessione livello dell'estremità punteggio 2 normale r sta per respiration quindi in cui valutiamo soprattutto il respiro il respiro in particolare la capacità respiratoria quindi può essere assente nel punteggio zero il regolare o lenta nel punteggio 1 e 2 invece è il pianto valido vigoroso i punteggi possono essere differenti se siamo sotto sotto a 3 siamo in situazioni gravi altri punteggi invece dobbiamo valutarli rispettivamente questi punteggi stratificano proprio il rischio di mortalità di morbidità e se abbiamo un punteggio da 7 a 10 allora c'è stato un buon adattamento neonatale tra 4 e 6 adattamento precario o asfissia lieve menore di 3 asfissia grave quindi il neonato va portato assolutamente in rianimazione adesso parliamo di altri importanti argomenti innanzitutto iniziamo dall'ipotermia che cos'è l'ipotermia ovviamente è una situazione in cui un soggetto va al di sotto di una normale temperatura che consente insomma di mantenere i parametri vitali nella normalità innanzitutto per quanto riguarda l'ipotermia per prevenire questi potermi la cosa principale è avere comunque un una temperatura ambientale no vedete qui in sala parto che deve essere comunque una temperatura dell'ambiente 25 28 gradi anzi un po più calda no dell'ambiente e non ha di devono essere asciugati e devono ovviamente venire a contatto con la pelle della madre e coperti anche con la testa in modo da evitare comunque perdite di calore le perdite di calore possono venire secondo varie modalità possono avvenire tramite una perdita di calore radiante cioè la cute viene esposta negli oggetti freddi presente nell'ambiente no ci sono magari degli oggetti sono freddi che quindi vanno a far disperdere far diminuire insomma il calore ambientale l'evaporazione cioè i neonati sono bagnati dal liquido ammniotico conduttivo tramite il fatto che i neonati perdono calore a contatto con oggetti freddi mentre è a contatto diretto direi e poi convettivo quando c'è un flusso di aria nell'ambiente quindi porta via il calore dal neonato quindi può essere diciamo qualche finestra aperta sistemi di ventilazione non adatti e vi dicendo comunque di solito non altri premature vengono messi in un sacchetto di polietilene coperti con questo sacchetto che può essere molto utile una cosa importante che come vedremo i neonati non hanno un meccanismo termogenetico abbastanza sviluppato infatti uno stress proprio da freddo prolungato nel tempo è difficile riconoscere proprio perché mano a mano questo può portare anche il dispendio energetico quindi va a impedire pure l'accrescimento del neonato infatti perché non ce ne accorgiamo perché i neonati sostanzialmente attuano una termogenesi tipo chimica che è senza brividi a differenza dell'adulto in particolare che cosa succede in questo in questa situazione allora innanzitutto dobbiamo dire che questo non può essere riconosciuto perché in sostanza c'è una scarica di adrenalina dal sistema nervoso simpatico e di noradrenalina nel grasso bruno questo grasso bruno metto il disegno scusate ho scritto adrenalina ma intendevo noradrenalina va beh nel sistema nervoso simpatico diciamo che c'è un attivazione autonoma con quindi segnali del grasso bruno localizzati nella nuca o livello inter scapolare livello del surrenio terreni e quindi che cosa succede l'organismo risponde tramite una lipolisi o tramite un'ossidazione anche ed esterificazione degli acidi grassi quindi in questo modo che cosa succede c'è una produzione locale di calore è un aumentato flusso ematico al grasso bruno questo aiuta in realtà a trasportare anche il calore al corpo nel resto del corpo del neonato quindi che cosa succede però che queste insieme di reazioni vanno ad aumentare il metabolismo dell'ossigeno di due o tre volte anche con una situazione di insufficienza respiratoria e in particolare il rediesio sta per di stress respiratorio quindi che è una situazione molto molto grave inoltre il freddo anche può portare un'ipossia tissutale con danno a livello cerebrale questo perché ovviamente si attivano delle riserve di glicogeno che causano prima un'iperglicemia transitoria poi se il freddo persiste si va in ipoglicemia con acidosi metabolica sepsi fino ad essere poi fatale il trattamento ovviamente prevede riscaldamento con incubatrice una lampada radiante e il neonato va trattato poi comunque in base a parametri di ipoglicemia di quante gravi l'ipossia e apnea ovviamente quindi questo poi ovviamente va nell'ultraspecialistico poi un'altra cosa importante è che ci sono delle problematiche oltre all'ipotermia che sono i traumi da parto questi si osservano spesso anche l'esame obiettivo i traumi da parto possono essere di natura ipossica o di natura traumatica durante il travaglio durante il parto comunque anche tramite il miglioramento delle manovre ostetiche ormai insomma non è un fenomeno riduzione i fattori predisponenti sono principalmente diversi innanzitutto troveremo una spropozione cefalo pelvica quindi avremo malformazioni presentazioni anomali e prematurità ci può essere per esempio un parto troppo rapido o troppo lento quindi troppo prolungato l'oligodramnios la prematurità inoltre è importante sarà iniziamo dal tumore da parto che come vedete una formazione edematosa a livello del capo e in particolare questa avviene in corrispondenza diciamo della zona dove o meglio della parte presentata ecco durante il parto più nel dettaglio si viene a creare proprio il nostro avaso dei tessuti molli sopra periostei con sangue e siero una situazione che fortunatamente si risolve in maniera spontanea e lo dobbiamo poi differenziare dall'encefalocele poi qui ho scritto due volte encefalocele vabbè scusate poi andiamo su altre su altre situazioni il cefaloematoma esterno può essere confuso magari col tumore da parto tuttavia è una caratteristica tipica è la manifestazione nella zona parietale dopo alcuni giorni la nascita e assisteremo a un'emorragia sub periostea delimitata dalle sudure craniche la consistenza è piuttosto tipica perché è molle delastica associata per esempio ad una frattura cranica è accompagnato d'ittero ad iperbilirubinemia questo poi lo vedremo soprattutto per processi diciamo correlati le anomalie emoglobiniche poi si può avere l'ittero e l'iperbilirubinemia vi dicendo ma le affronteremo dopo e il trattamento si risolve diciamo due o tre settimane due due settimane ma anche tra volta tre mesi può richiedere quindi è abbastanza variabile la tempistica per quanto riguarda poi le fratture craniche queste perché avvengono perché per esempio c'è una applicazione di un forcepi o della ventosa nella zona del cranio causando quindi questa frattura oppure quando la madre no quindi partorisce c'è il passaggio del neonato nel canale del parto la compressione della sinfisi pubblica può anche creare una frattura a livello del cranio poi abbiamo le chimosi nel volto l'emorragia sotto congiuntivali e congiuntivali in questo caso diciamo perché si vengono a creare perché per esempio c'è una presentazione di faccia magari c'è un trauma fisico un travaglio difficile mentre se abbiamo il parto podalico dobbiamo fare di anni differenziale perché le chimosi si manifesteranno a livello a livello gluteo andiamo su altre complicanze che possono insorgere nel parto comunque dopo il parto insomma quindi sono le emorragie intracraniche le emorragie intracraniche come vedete a diverse cause abbiamo le cause dovute a tramite parto prematurità anomalie vascolari oppure deficit per esempio della vitamina k quindi una malattia di tipo emorragico a destra vedete la sede purtroppo non si legge bene mi dispiace però la sede quale può essere c'è base la sede come vengono suddivise abbiamo il cefalo ematoma l'ematoma subdurale l'emorragia subaraconoidea intraventricolare cerebellare intraparenchimale talamica e parenchimale le più frequenti però basta ricordarci diciamo quelle frequenti perché insomma ci sono tante classificazioni sono quelle gmh ivh quali sono quelli l'emo matrice germinativa emorragia invece e mostra per emorragia appunto della matrice germinativa oppure intraventricolare in particolare quest'ultima la dobbiamo tenere ben a mente magari vi metto schermo anche i disegni in basso e abbiamo vari gradi innanzitutto la caratteristica che si manifestano pochi giorni dopo la nascita quindi dovuto a un fattore ischemico oppure ad un trauma quindi il rischio di emorragia ovviamente perché aumenta nei prematuri perché c'è la fragilità della matrice germinale e la diagnosi come anche molte emorragie la possiamo fare con l'eco e l'eco cosa ci fa a livello cerebrale ovviamente ci fa vedere la sede e l'estensione e classificare anche la gravità questo è la classificazione il grado primo di emorragia intraventricolare fino al quarto nel primo il sanguinamento è limitato alla matrice germinale che è utile comunque per lo sviluppo cerebrale nel secondo abbiamo il sanguinamento ventricolare nel terzo abbiamo facciamo ingrossare i ventricoli con vediamo scusate facciamo vediamo e il sanguinamento fa ingrossare i ventricoli perché c'è un aumento della pressione a livello del tessuto cerebrale nel quarto invece c'è un sanguinamento proprio intra parenti male nel tessuto attorno al ventricolo anche qui dobbiamo vedere ulteriori situazioni sempre complicanze che invece interessano soprattutto diciamo sono di interesse ortopedico neurologico diciamo vabbè andiamo a vedere quali sono innanzitutto possiamo avere la paralisi del presso bra e le paralisi ostetriche dei nervi periferici e vi dico che sono le paralisi del presso brachiale quelli del nervo facciale che vedremo dopo alle lesioni del mitolo spinale che sono diciamo più rare poi dopo vedremo le lesioni osteoarticolari vere e proprie nella paralisi del presso brachiale vengono interessate le ultime quattro radici quindi della c5 alla c8 ovviamente non vi confondete perché parliamo del presso brachiale quindi abbiamo c8 e fino alla t1 in base alla sede possiamo avere poi la paralisi superiore chiamata di herb duchenne poi la paralisi inferiore di crumpe deigerin e poi la paralisi radicolare totale andiamo sulla paralisi superiore di herb duchenne questa paralisi riguarda quindi superiore abbiamo detto che parte da c5 e ricordiamo interessa le prime due quindi c5 e c6 i muscoli interessati qua ve li ho elencati però vedete sono gli adduttori della spalla i rotatori esterni i flessori i suvinatori dell'avambraccio e l'estensione del polso quindi che cosa succede che il neonato non riesce ad abdurre il braccio alla spalla extra ruotarlo a supinarlo e come vedete assume un atteggiamento tipico diciamo in inglese viene chiamato wager steep pelsi cioè l'atteggiamento da wager tipo cameriere ecco perché perché avranno se anche volete cercare su web potete trovare delle immagini di questi bambini più realisti che io ho provato a disegnarvelo comunque è l'arto e abbandonato e addotto ed intra ruotato con la spalla abbassata il gomito verso l'esterno l'avambraccio prono e il polso è flesso quindi questo atteggiamento anche è caratteristico perché troveremo un'assenza del riflesso di moro andiamo invece verso la paralisi inferiore la paralisi di clump degerin o di clamp vabbè a parte gli accenti cosa coinvolge coinvolge il tratto che rimane quindi se la superiore da c5 da c6 qua va da c7 fino a d1 e va a interessare in particolare muscoli intrinseci della mano i flessori delle dita del polso e l'aspetto che avrà questo neonato e particolare è diverso ecco da quello di prima perché l'avambraccio sarà prono quindi simile alla weatherstip palsy weatherstip palsy quelle dicevamo prima del cameriere che chiede la mancia in sostanza significa in inglese e poi però qui troveremo una una paresi della mano e del polso la caratteristica importante soprattutto quella del riflesso perché in questo caso viene a mancare proprio il riflesso della prensione palmare quindi da un lato in quello di prima nella yard usceno superiore il riflesso di moro sarà asimmetrico in questo caso invece abbiamo un'assenza del riflesso della prensione palmare forse se non ero prima ho detto che il riflesso di moro era assente volevo dire asimmetrico comunque una cosa importante se ricordate no la la claude bernardo horner ecco anche qui si può associare una condizione simile infatti avremo la miosi la tosi e leno oftalmo infine quella situazione più peggiore più si peggiore diciamo è il danno totale no alla radicolare quindi da c5 a t1 o d1 insomma e in questo caso la ciondola la spalla in alzata per azione del trapezio qui mancheranno tutti i riflessi osteotendinei e la restituzione di integrum avviene intorno a sei mesi se non avviene ci può essere anche una paralisi permanente andiamo verso adesso le lesioni che riguardano il nervo facciale scusate se non si legge bene però abbiamo a sinistra quella periferica destra quella centrale alla vostra sinistra quindi in particolare quella periferica e quella centrale quella periferica e completa vediamo che interessa tutta lei mi faccio come vedete dall'immagine dove troveremo una incompleta chiusura dell'occhio un'assenza della plica naso labiale e l'abbassamento della rima buccale ovviamente ce ne accorgiamo facilmente pure se vogliamo cercare di far fare una smorfia il neonato vediamo che metà faccia a queste caratteristiche il trattamento importante bisogna proteggere la cornea con delle gocce perché l'occhio ovviamente non si chiude bene e anche la restituzione di integrum fortunatamente sia in poche settimane quella invece centrale e incompleta riguardo due test inferiori del volto e lato colpi nel lato colpito comunque il corrugamento della della fronte rimane andiamo adesso alle lesioni del midollo spinale quindi ragazzi sono molto rare spesso per il parto podarico perché c'è una forte trazione oppure se si vuole disimpegnare la testa in maniera brusca e può essere completa in completa reversibile o reversibile ci sono due fasi la fase dello shock spinale e la fase di automatismo idollare la fase dello shock spinale è data da una paralisi flaccida degli arti e l'abolizione dei riflessi c'è una perdita della sensibilità una ritenzione urinaria e fecale in questo caso e poi turve vegetative inoltre la fase invece di automatismo midollare dovuta alla ripresa dell'attività autonoma riflessa dei centri sotto la lesione però troveremo una spasticità a livello degli arti inferiori la proniosi sarà grave infine anche nell'ambito ortopedico pediatrico troviamo le lesioni osseo articolari e sono i trami alla spalla la frattura della clavicola e l'ematoma del muscolo sterno credo mastodeo queste cose le avevo un po accennate anche nella nei video di ortopedia se volete fare un approfondimento potete farlo da lì comunque i trami della spalla possono essere semplici quindi come le distorsioni complicate come il distacco dell'epifisi omerale prossimale e la frattura della clavicola miste se ci sono distorsioni associate a paralisi del plesso brachiale complesse miste semplici con distorsioni paralisi del plesso brachiale e miste complesse con i distacchi epivisari e paralisi del plesso brachiale poi abbiamo la frattura della clavicola che è la lesione più frequente nel parto e può essere di tipo incompleto al legno verde no come appunto abbiamo visto anche in ortopedia quindi la frattura l'osso si si spezza come appunto i rami ancora verdi no di legno quindi è una frattura tipica anche in età infantile e poi abbiamo quindi una frattura completa che invece con lo spostamento senza lo spostamento dei frammenti la clinica è importante perché troveremo la soprattutto nel lato omolaterale la lesione quindi nell'arto troveremo un atteggiamento adotto col gomito steso è il soggetto incapace di muovere l'arto c'è un dolore alla mobilizzazione passiva l'ematoma clavicolare i crepiti allo sternogredo mastodeo il riflesso dimora assente nell'arto omolaterale però la prognosi è buona importante è fasciare tempestivamente l'arto in posizione abdotta con il combito flesso a 90 gradi per quanto riguarda invece l'ematoma dello sternogredo mastodeo spesso è dovuto al parto distocico oppure a condizioni congenite o al malpiposizionamento uterino questo diciamo può portare può essere dovuto al fatto che il feto ha un lato della testa inclinato per sono durante la gravidanza durante la gestazione rimane in posizione anomala quindi può sviluppare quest'ematoma clinicamente troveremo appunto l'ematoma perché si lacerano le fibre il problema che possono andare incontro a fibrosi e retrazione troveremo una tumefazione dura ferma e con dei limiti lenti e come vedete proprio nell'immagine avremo il capo inclinato verso il lato della lesione con interessamento allo sternogredo mastodeo e l'ematoma poi regredisce nei primi mesi di vita bene per questo video tutto spero che tutto chiaro se ci sono dubbi o eventuali correzioni pure potete commentare